Ha fischiato la fine, l'arbitro ci ha messo del suo Ci ha messo del suo l'arbitro con due o tre finezze Dette proprio da un ex arbitro, finezze proprio I nostri tifosi stanno E' finito con il risultato il 0 a 0 Ma potevamo benissimo vincere se l'arbitro non si metteva lo zambino Ecco i nostri ragazzi vanno a salutare i nostri gruppo degli Ultras C'è del rammatico per questa gara Potevamo vincere benissimo Ecco i nostri tifosi pure sono rimasti un po' delusi Da questo arbitraggio Non tanto nel primo tempo ma nel secondo Con due finezze proprio scientifiche dell'arbitro Un vantaggio clamoroso che poteva dare Invece ha fischiato la punizione Se dava il vantaggio il nostro calciatore Si stava portando direttamente in porta da solo E dopo un calcio di rigore netto negato 0 a 0 Questa gara che doveva essere nostra